Si era svolto il 26 gennaio scorso l'incontro nella Sala della Concordia del Municipio per definire il progetto di integrazione e iniziare a pianificare le procedure burocratiche che avrebbero dovuto regolare attraverso le associazioni l'impegno dei profughi a svolgere mansioni socialmente utili. Nei giorni scorsi anche Simone Antoniozzi di Prima l'Italia aveva chiesto notizie in merito. Oggi l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi oltre a confermare che rifugiati attualmente ospitati al plaza lasceranno l'albergo il 31 marzo prossimo ha chiarito la situazione. Ha spiegato infatti che il tempo non è stato sufficiente per poter dare avvio alle procedure necessarie per poter far svolgere loro attività lavorative ma solo di integrazione sociale. L'assessore poi ha ribadito che nessuna spesa viene sostenuta dal comune di Fano. I profughi a Fano si stavano apprestando a svolgere queste attività lavorative che necessitavano di un tempo di preparazione sia per individuare le associazioni disponibili per accoglierli perché questo è quello che prevede il protocollo del Ministero degli Interni con tutta una serie di punti da rispettare prima di poter far partire le attività. I rifugiati ospitati all'hotel plaza hanno fatto dei corsi di lingua italiana, fanno parte diciamo di una progettazione che riguarda le attività più del tempo libero e anche di integrazione finalizzata a una miglior convivenza civile sul nostro territorio. E quindi sono in contatto con diverse associazioni e gruppi con i quali svolgono oltre all'attività della lingua anche attività di tipo sportivo, di testimonianza, attività di tipo culturale. E quindi diciamo il nostro obiettivo è quello di garantire e assicurare a loro e ai nostri cittadini una permanenza, una convivenza pacifica e all'insegna della distensione del clima. I soggiornanti a Magliano invece tutti da poco maggiorenni visto che rimarranno lì più a lungo saranno coinvolti in attività lavorative.